La Sardegna sorge a nuova vita. Un trattore e un arapro sono ormai il simbolo della rinascita delle regioni del Mezzogiorno. Dal continente alle isole è tutto un fervore d'opere. Il popolo sardo ha detto con stile pittoresco e gioioso al ministro Fanfani che ha visitato l'isola, la riconoscenza della gente isolana per le provvidenze del governo che hanno dato la terra ai contadini e i mezzi idonei per coltivarla. Testimoniano la gioia dei Sardi queste manifestazioni e la nuova realtà, gli scorci di vita operosa. Il ministro Fanfani ha visitato pure la regione del Flumendosa. L'ente autonomo cura la creazione del nuovo vaccino per l'imbrigliamento e lo sfruttamento delle acque che daranno vita e prosperità alla regione.